Sono in 5 al via, riperdiamo non partente Selenas, ritirati Socrate e Selvaggia Dea. Partiti. Con dall'esterno Sony dei Room Veloce, che cerca di assumere l'iniziativa nei confronti del numero 1 Sabina Mail, che tiene a largo il numero 8 Solano, che si ritrae mentre sbaglia nel tentativo di invenire via su Arez dei Room. Terzo in corda si mette Sony Laser. Sony dei Room, che guida senza nessun problema nei confronti di Sabina Mail, 400 metri in 29,7. Mentre sono rimasti in 4, perché il numero 3 su Arez dei Room è a tabellone. Cavalli che sono dopo 600 metri, passati in 45. Sony dei Room, che è indisturbato al comando, ha almeno 4 lunghezze da Sabina Mail, che giunge gli 800 metri in un minuto e un decimo. Sony dei Room è così, fa anche un po' di velocità. Leonardo Vastano non si cura della tattica, ormai ha la comando e ha margine nei confronti degli avversari. Arriva a chilometri in 1,15,7. Per la seconda posizione sposta Sony Laser, va su Sabina Mail, che cerca la reazione, mentre Solano è già in difficoltà. Cavalli che sono all'attacco dell'ultima curva con Sony dei Room, che mette assieme un altro 15,6. E si mantiene fuori portata da Sony Laser e Sabina Mail, con Sony Laser che comunque insiste su Sabina Mail e cerca di sopravanzarla, mentre Sony dei Room adesso affievolisce un po' l'azione dopo la curva in 15,4. Sony dei Room al comando e Leonardo Vastano continua ad allungare. Sony dei Room senza nessun problema va a vincere questa prima del San Paolo nei confronti del numero 2 Sony Laser che precede l'1, Sabina Mail. 1,16,2, c'è 36 a chiudere per Sony dei Room, Manabar circola S e Devona Room di Leonardo Vastano che lo ha pilotato al comando senza nessuna difficoltà. Sony Laser a seconda, Sabina Mail terza, Solano forse quarto da verificare se è fuori tempo massimo mentre squalificato è il numero 3, tutto. Grazie a tutti.